Luzione Votto, vice sindacusciente, pronta a scendere in campo con un programma che si fonda su 4C. Sì, ho sintetizzato con queste quattro parole, concretezza, collegialità, competenza e coesione, il programma futuro per la città. E nel suo discorso di poco fa ha voluto marcare la differenza rispetto all'attuale amministrazione, soprattutto in alcuni punti. Soprattutto in merito alla gestione della macchina comunale, alla gestione delle società partecipate che devono avere, a mio avviso, degli indirizzi maggiormente stringenti e soprattutto nei rapporti con la città. E finiamo con le liste, sicuramente una lista civica a supporto, si diceva forse anche un'altra in arrivo. Stiamo lavorando ad una seconda lista civica, sottolineo che noi siamo l'unica coalizione che si presenta senza partiti. I nostri candidati non sono iscritti ai partiti, quindi siamo un gruppo di cittadini che si mettono a disposizione per lavorare per la nostra città e per la nostra provincia. Grazie. 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 Grazie.